E' l'inizio della redenzione che con il presepe cominciamo a meditare. E quando diciamo presepe pensiamo subito a Greccio e adesso pensiamo ai nostri artisti, a Wolfango, qui a Bologna. Ed è l'annuncio di una liberazione o l'inizio di una redenzione o un cammino nuovo o una speranza che prende consistenza che noi vediamo raffigurato in una stella che brilla. E giustamente parliamo che è apparsa una stella. In realtà il testo biblico parla di stella che vuol dire angelo, che vuol dire annuncio, che vuol dire provvidenza. Gesù nasce in Israele, che è a ridosso tra l'Occidente e l'Oriente. Ed è l'inizio di un popolo che ha avuto origine da Ur dei Caldei. Nel 1500 a.C. Mosè esce dall'Egitto dove era riparato. E nell'anno 1000 Davide è re di Israele. Ma nel 753, fondazione di Roma, Israele già camminava ed era fortemente già un popolo con le sue leggi e le sue tradizioni e le sue celebrazioni. Nell'anno 0 di Roma Gesù nasce a Betlemme. Sotto l'impero romano, che era un impero ben grosso, costituito e ben conosciuto, che comprendeva l'attuale Germania, l'attuale Francia, l'attuale Spagna, ovviamente l'Italia, tutti i paesi balcanici, la grande Grecia, la culla della civiltà, la Turchia, cioè l'Asia minore, la Palestina, gran parte dell'Egitto e tutta la costa mediterranea, fino ad arrivare su in alto all'attuale Inghilterra. Era davvero un impero romano. Tutto dentro il grande mare mediterraneo, che veniva chiamato il Mare Nostrum. Virgilio, nel XIX a.C., preannuncia nelle bucoliche che verrà dal cielo un bambino che instaura pace, dove scompaiono le tracce della nostra colpa. Virgilio, che viene raffigurata la sua profezia nel pavimento anche della cattedrale di Siena che noi vediamo qui raffigurato sulla nostra sinistra, in cui appare questo testo molto limpido, molto forte, quasi di un veggente, preannunciato da Sibille e da profeti. La Sibilla delfica, la Sibilla eritrea, la Sibilla libica, la Sibilla cumea, persica, e la spuntina, che parlavano, conosce il figlio, nasce da vergine ebrea, verrà un redentore che taccerà davanti agli schiaffi, oppure che avrà un sonno di tre giorni e con cinque pani sfamerà e la L spuntina che gli diedero schiaffi. Ed è così che noi vediamo preannunciato quello che sarà il figlio. Il brano del Vangelo, ne parla il Vangelo di Matteo e di Luca, Luca si esprime in questo modo. Cesare Augusto ordinò un censimento, voleva sapere quanti erano sotto l'impero romano le persone. E Giuseppe salì a Betlemme, perché loro che abitavano a Nazareth erano però di origine della tribù di Giuda e quindi veniva da Betlemme. E Maria diede alla luce il suo figlio e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. L'angelo andò a chiamare i pastori, non temete, è nato per voi un Salvatore. Ed è così che noi, a Betlemme, la nostra tradizione, in questo caso Sant'Elena, madre di Costantino, ha costruito questa grande chiesa, la Chiesa della Natività, dove all'interno vi è una grotta nella quale è nato Gesù, in un complesso di grandi grotte che ce ne sono tante a Betlemme, e in questo caso ci sono due punti dove i cattolici, sulla destra, hanno una mangiatoia, dove erano gli animali, e lì celebrano il loro culto. Di fronte abbiamo dove Maria depone o è vissuta nella grotta del posto Gesù, e lì gli ortodossi celebrano i loro culti. È l'unica grotta in cui si sono svolti in questi avvenimenti, la nascita e l'accoglienza. È in questo caso quindi che noi troviamo l'inizio del Natale del Signore nell'anno 748 dalla fondazione di Roma e che poi i cristiani si sono propagati e nel 64 Nerone l'incolpa dell'incendio di Roma. Ma nell'anno 112 Traiano si esprime che se denunciati siano condannati. Dice nel 250 d.C. esige che tutti abbiano il libello della fedeltà alla religione di Stato e che quindi venivano esclusi e identificati, tanto che Valeriano nel 257 confiscava i beni dei cristiani e li impoveriva. E nel 303 Diocleziano obbligava di sacrifici agli dèi tutti quanti e chi si rifiutava veniva condannato. È così che abbiamo una serie di martiri fino ad arrivare a Costantino che con l'edito di Milano dà la libertà a tutti. I cristiani quando si trovavano disegnavano uno un arco, l'altro l'arco, perché saltava fuori un pese, perché la parola pese porta come iniziale Ixus Christos Seu Ios Soter che significa Gesù Cristo, figlio di Dio Salvatore, oppure alla moda romana c'è la K e la R che incrociati fanno le iniziali della parola Cristo. Erano perseguitati, quindi usavano una terminologia criptata. La diffusione fu immediatamente in tutte le città dell'Oriente e tutte le principali città dell'Oriente e dell'Occidente avevano comunità cristiane che cominciano a operare per la trasformazione. Nelle catacombe di Roma, particolarmente quella di Priscilla, nell'anno 220 identificata, vi è raffigurato il profeta Balaam che era pagano, che veniva chiamato per condannare gli ebrei, e invece dice no, dagli ebrei verrà il Salvatore. E quindi identifica con una vergine che partorirà un figlio e dalla stella di Davide che avviene la redenzione. Una vergine particolarmente di belle fatture è un bambino che è addirittura sorridente. Questa è la prima rappresentazione della Madonna che noi abbiamo e la prima rappresentazione del bambino in braccio a lei mentre sta prendendo il latte. I sarcofagi cominciano subito a dare la indicazione che è nato a Betlemme, è nato da Maria, è nato riscaldato da un asino e da un bue, è nato venendo onorato dai re magi e dai pastori e così che nel 350 nei primi sarcofagi nei musei vaticani conservato, noi abbiamo già una prima rappresentazione del presepe e facevano, qui siamo a Ravenna, delle grandi feste in occasione del Natale in cui, qui siamo nel VI secolo, facevano l'ufficio un pastore, in cui si chiedevano quem queritis pastores, cosa chiedete pastori? Dite! E qui vediamo i pastori che portavano i doni e diranno rappresentazioni che facevano nella notte di Natale, nella nostra nonantola, abbiamo il bambino Gesù che viene accudito da delle persone che sono arrivate ad aiutare Maria che è ancora giacente, sdraiata nel letto dove ha partorito e le caprette e gli agnelli che sono venuti anche loro a fare festa e a portare latte e a portare nutrimento e a portare l'accoglienza in modo che questo asino e il bue che vengono, appaiono, qui siamo ancora a Nonantola, dove il bue appare, è identificato con l'animale che pensa di più, è più assorto, è l'Oriente, è l'asino che lavora, che è l'Occidente. Per tutti è nato ed è così che noi nel portale di Nonantola abbiamo questo asino e il bue nel 1117. Facevano la notte di Natale l'Ufficium Stelle come abbiamo qui raccolto e raffigurato in questo volume del secolo X in cui particolarmente si faceva arrivare una stella la notte di Natale o a Santa Maria Maggiore in Roma che viene chiamata la Basilica del Presepe perché furono portati a Roma delle assicelle prese da Betlemme ad opera di Sisto III nel 432 e in Santa Maria Maggiore nel 1295 che è la prima Basilica dedicata a Maria nell'Occidente e Jacopo Toriti fa questi mirabili mosaici in cui Maria genere il bambino in cui Giuseppe sta nell'attenzione gli angeli vengono a onorare gli angeli che vanno a chiamare venite e venite e gli angeli che conducono i magi ma non sono le stelle che hanno condotto i magi certo ma quando nella Bibbia si usa stella si indicano angeli e sono gli angeli che conducono Maria che in questo caso addirittura è già messo come in un trono perché la regina e la madre viene identificata secondo la sua dignità qui siamo a Forlì nella chiesa di San Mercuriale e vediamo un officium stelle che è illuminante in alto e i re magi che si tolgono i copricapi davanti a Maria che offre Gesù e Maria sta ricevendo i doni e Giuseppe è pronto ad accogliergli da buon padre di famiglia ma il tutto nasce con più articolazioni e con più pienezza a Greccio per questo che intendiamo che il presepe è partito da Greccio nel 1223 Francesco a Greccio in questa festa che si facevano in questi uffici o celebrazioni Francesco fece disporre una greppia non in una chiesa ma una greppia in una grotta e si portò del fieno e furono menati anche l'asino e il bue così Tommaso da Celano registra e nota che Greccio si trasforma in questo modo in una nuova betlemme a Greccio è stato fatto un affresco in cui vi è Francesco che per quella notte si vestì da diacono e lo era e fu omileta in quell'occasione e fece lui la spiegazione di ciò che avveniva e un contodino e una contodina fecero da Maria e da Giuseppe e fecero il primo presepe fatto dai poveri il primo presepe con la celebrazione della messa e tutto attorno a Francesco che era estasiato e al quale apparve Gesù bambino che lui poteva prendere in mano e poteva avere così una trasfigurazione per cui lui davvero si trasformò nel bimbo e il bimbo si identificò in Francesco a Greccio abbiamo queste memorie ancora in questo caso sulla destra l'abbiamo ad Assisi e sulla sinistra l'abbiamo a Siena in cui viene raccontato il primo presepe così articolato con la partecipazione di tutti e Giotto nella chiesa degli Scrovegni a Padova fa addirittura la stella cometa è la prima volta che la stella viene raffigurata in questo modo con una chioma che potrebbe essere la stella di ma che viene raffigurata con la stella che guida che guida i Re Magi e che è la provvidenza di Dio che è arrivata fino a noi a Roma in Santa Maria Maggiore Arnolfo di Cambio fa nel 1280 queste sculture che sono conservate come le più antiche che noi abbiamo un primo presepe a distanza da 50 anni da quello che fece Francesco ma a Bologna abbiamo in Santo Stefano in eguale data se non forse anche prima il nostro che è scolpito in legno di Tiglio e che Simone dei Crucifissi fa il dipinto nel 1370 e li fa adorati e oggi brillano e sono nella composizione di una adorazione del bambino con Maria seduta in un umile trono ma certo una gran signora con di fianco Giuseppe protettore e custode della Sacra Famiglia il presepe nell'arte si apre subito e in questo caso Giotto fa delle nugole di angeli che vengono a venerare il Signore assieme ai pastori e anche assieme agli animali Gentile da Fabriano lo fa così festoso con un corteo che contempla nobili ricchi terza età con cavalli leopardi levrieri dobedari le simbie i falconi i servi con una fastosità enorme diciamo che la fastosità viene ad essere una fede contemplata e viene a manifestarsi in Santo Botticelli che ha avuto la conversione attraverso Savonarola concepisse davvero il Natale con un'attività mistica chi si esprime in alto con una danza di angeli che addirittura nella danza festosa perdono le corone che hanno in testa perché non servono più le corone e ogni differenza viene tolta in occasione del Natale e gli angeli che fanno festa fide, speranza e carità alla natività che è apparsa e raccorrono i pastori guidati dagli angeli e gli angeli che fanno festa con gli uomini e ormai i diavoli che se ne scompaiono e se ne tornano sotterranei è il senso mistico del Natale in cui appare il Redentore i diavoli fuggono gli angeli si abbracciano è la pace Andrea della Robbia Sansepolcro fa questa ammirabile maiolica in cui lo presenta in arte povera secondo lo stile francescano e con questi blu fondali che sono una meraviglia di pace in alto l'annunciazione e in basso il tabernacolo perché il Natale continua presso di noi con la presenza eucaristica a Modena il nostro Guido Massoni fa la Madonna della Pappa che è nella cripta e la Madonna che è seduta in trono che è venerata dai pastori trova in un aiuto che è una ragazza d'Ao una dirittura che sta assaggiando la pappa la minestra o diciamo una bevanda calda e la sta assaggiando per vedere che non sia troppo calda viene chiamata la Madonna della Pappa a questo punto vediamo che attorno a Gesù ci sono tutti chi può chi non può ricchi e poveri chi è e chi non è a seconda della propria capacità e autonomia e anche in questo caso che è un'omile persona come questa ragazza tutti vengono chiamati e tutti attorno al presepe trovano la loro dignità indipendentemente dal censo dalla loro presenza o delle qualità che loro possono avere anche Bruegel che in questo caso fa il censimento che è una festa di paese è un incontro di popoli ma Gerardo delle Notti lo fa in mirabile visione in questa tela che nell'attentato agli uffizi da parte della mafia era stato ampiamente rovinato e che qui è stato riportato al primitivo splendore e dalla luce di Cristo che gli angeli prendono luce, gioia e calore e Maria giovanissima che può presentarla davanti a un Giuseppe che vicila ed è attentissimo Caravaggio lo vediamo in questo brano in cui Maria è appoggiata sulla mangiatoia il trono di Dio è la mangiatoia la casa di Dio è la casa degli animali perché sono loro che l'hanno accolto non la gente e sono loro che vengono raffigurati l'aseno e il bue alle spalle e gli hanno ceduto la loro mangiatoia per poterlo scaldare nel fieno e i pastori che gli sono attorno e che sono disposti a forma di croce per indicare il futuro di Cristo questa mirabile composizione che troviamo a Messina del 1601 racchiude quanto nella storia si era dato e quanto si sperava che tutti potessero contemplare il Signore Gesù il nostro Guidorini che è quello che raccoglie il classico e si apre al futuro quello che raccoglie l'esperienza romana e l'esperienza della scuola pittorica di Bologna che dà quindi vigore secondo la indicazione delle caracci e che dà composizione secondo la scuola pittorica romana quello che è il meglio espressivo di tutta la scuola pittorica bolognese in questa tela che è di grande composizione di grande efficacia con dei colori mirabili ci mostra quello che è il Natale una festa un'accoglienza una condivisione per tutti immediatamente hanno cominciato a sorgere i presepi i gesuiti hanno cominciato a farli come teatro con delle scene con la natività i pastori i magi la strage degli innocenti la fuga in Egitto i tedeschi hanno cominciato a fare le statuine in legno colorato i provenzali li chiamano i santon i provenzali della bassa Francia con manichini linei con le mani le teste i piedi in terracotta vengono dalla tradizione di Monna Pica la madre di San Francesco da cui lui veniva oppure il Sacro Monte di Varallo con Gaudenzo e Ferrari con 5.000 statue e con 45 cappelle e il presepe napoletano che si esprime con Sacri Profano con cielo e terra con il pastore Dormiglione che viene chiamato Benino che sogna quello che vede e con il Dormiglione così lo chiamiamo Bologna e in Sicilia lo chiamano i susi pasturi o il Vinaio Bacco la Pesca il Carnevale la Morte il Monaco la Zingher la Stefania la Meretrice l'Osteria tutti e vengono anche raffigurati nel presepe napoletano tutti i 12 mesi con il Gennaio il Macellaio con Febbraio il venditore di formaggi con il Pollivendolo a indicare Marzo in Aprile il venditore di uova delle ciliegie il farinaro il venditore dei pomodori dei cocomeri del seminatore del vinaio delle castagne e del pescatore è una festa di tutti è una festa dove poi i presepi passano dalle chiese alle case dove i magi addirittura cominciano a vestire con il colare di San Gennaro e si fa la processione per fermare il deluvio vi appaiono anche pulcinelle le maschere i mendicanti i contadini il popolo in gran numero le vedove rapate i nani i gozzuti e le zingere diciamo che non rimane a casa nessuno e che tutti per Natale spuntano fuori e i magi opulenti e raffinati eleganti con doni vengono come i cavalieri di San Gennaro con turbanti animali esotici e schiavi e così che si fa un po' di tutto è il calendario dell'attesa la merce nel presepe napoletano simboleggia la gioia l'opulenza la festa e tutti saltano fuori a portare qualcosa certo che il presepe napoletano è vestito con della stoffa con dei manechini con delle giunture degli snodi con l'anima di filo di ferro le teste di legno policromo delle parrucche dei vestiti dei grossi allestimenti e venivano fatti sia in committenza laica nelle case o nelle chiese ed era l'avvenimento dell'anno su cui si ritmava e si misurava tutto ciò che avveniva in Liguria li fanno legno terracotta ma vestiti sontuosamente addirittura con dei gioielli addosso uniti alle loro abiti manechini articolati con scansione di sene ma certo molto ricchi e raffinati a Roma nel bambino dell'Areceli uniscono il popolare con la raffinetezza e con la dovissia per cui unisci un po' tutti quanti attraverso i doni che gli sono stati dati ma a Roma facevano il presepe romano o anche particolarmente povero la vita in campagna romana o in Lombardia dove veniva disegnato su carta e la carta veniva poi stesa su legno e così noi vediamo questo modo di procedere il presepe tirolese a Bolzano dove addirittura ci sono decine 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 di personaggi o il presepe trapanese che veniva fatto con del corallo e dell'avorio o in Abruzzo con tante scene scandite in cui si vedono a mo' di processione i magi i pastori ogni persona che guidate dagli angeli raggiungono la grotta il presepe marchigiano tiene conto della composizione marchigiana arriviamo a noi a Bologna dove il presepe è scolpito per intero è sempre in terracotta è sempre al massimo in legno o gesso ma sempre in composizione completa un'opera in miniatura di una grande statua ed anche di una grande arte pittorica e a un certo momento anche colorato a dovere ma con estrema eleganza e con estrema raffinatezza con dei pastori particolarmente identificati il dormiglione il pastore per l'adorazione la donna delle meraviglie la donna curiosa il nostro Wolfango da cui prende nome un po' da Mozart che è Wolfango Mozart o da Goethe che è Wolfango Goethe all'interno della sua O così che lui si chiama con questo pseudonimo ci mette il nome della moglie Chiara il nostro Wolfango fa la festa di tutti e prende da Francesco la indicazione venite tutti alla festa questa è la casa dove si fanno i tortellini la sera della vigilia di Natale e si prepara il presepe insieme Wolfango diceva sono gnostico ma il presepe mi piace sono gnostico cioè il divino non è dimostrabile non è verificabile è impossibile anche pronunciarsi sul divino però lo intuiva lo sentiva lo verificava ed è questo che nel presepe appare nelle 200 statue che lui ha composto come presepe nei diversi anni in cui si è articolato e qui vediamo San Luca che sale lungo il colle della guardia in una posizione di grande sviluppo e di grande amenità in cui si è riparato dal sole e dalla pioggia in cui si vede il panorama ora da una parte ora dall'altra come in un grande teatro per cui Dotti e Bibiena qui ci sono sicuramente alternati e ne fanno il portico più lungo ma anche il più bello di tutto il mondo e unisce la città al santuario l'Arcivesco quando ha commentato quest'estate diceva il presepe è la piazza della vita che Wolfango ci fa incontrare oggi così pure ha una tradizione sacra storia civica ecclesiale di attualità di arte di politica Wolfango fa anche il sindaco Dossa che fu sindaco della nostra città dal 45 al 66 e in bene dall'89 al 2004 e Dossa addirittura lo fa con le chiavi come fosse giustamente San Pietro è quello che tiene le città e nelle sembianze come Niccolò dell'Arche lo fa San Petronio nella facciata di San Petronio oppure Michelangelo come fa nelle tumba di San Domenico cioè tiene in mano la città e la governa e il sindaco che la esprime in modo che ancora l'Arcivesco si esprime in questo presepe come tra poco vedremo ci sono maestri medici professori sacerdoti politici ma tutti hanno un nome e in questo caso è Guido Guinezelli che sta leggendo la bolla che aveva composto in cui vengono aboliti i servi della gleba che erano addirittura 6.000 e per cui Bologna diventa una città nel 1256 dove non ci sono i padroni e gli schiavi ma sono tutti cives tutti cittadini è un libro del paradiso con la scala che va in paradiso e dice in paradiso erano liberi gli uomini e anche da noi debbono essere liberi Monsignor Gerardi qui viene raffigurato nel momento che regge la chiesa di San Bartolomeo di cui è Paraco e Catti da finissimo ed esperto educatore ma Gandhi viene raffigurato nel momento in cui assaggia il sale che era vietato la tassa sul sale era stata particolarmente vigorosa e che lui fece togliere o sulla destra abbiamo Aladino che fu ferito nelle battaglie e nella guerra in Jugoslavia e che a Budrio a Vigorso gli fece una nuova gamba e corre ecco il Natale finalmente si corre finalmente si cammina finalmente superiamo ogni cosa è il simbolo della liberazione l'assessore alla cultura della nostra città dice Bolfango a pezzi unici con perissia di pittore illustratore figuranaio e Roversi Monaco si esprime in questo cartellone che chiamiamo è il progetto educativo di un'intensa attività culturale e artistica questi quadri sono andati a finire nella sala stampa del comune o nel museo della città perché sono davvero delle composizioni di una ricchezza di una facilità di una vivacità e notano ecco il momento che sono tratti attraversati il presidente della Monutencoop si esprime Bolfango è quello che ha preso da San Francesco l'invito tutti alla festa sono venuti anche gli artisti tutti alla festa e così Bolfango dice ho impastato i tempi per la festa la figlia Lighiera con la sua vitalità la sua lungimiranza è stata quella che ha custodito ha accompagnato e ne conserva le memorie e ha ritirato anche l'archiginasio d'oro alla memoria che il comune gli ha dato e che diceva che felicità essere in mezzo ai compagni di avventura giuganti buoni che mi proteggano Bolfango che ha fatto così il presepio ma diciamo che il presepio ha fatto Bolfango che l'ha ispirato e quindi qui è in uno scherzoso atteggiamento con la figlia Lighiera e con il dottor Campanini in cui nella suo studio dove conservava tutte queste immagini e dalle quali prendeva e dava ispirazioni per tutto l'anno è una documentazione della nostra città questo presepio è il cassetto dei giocatori la grande sfoglia i presepi il presepio chiama il mondo e Bolfango ha fatto la storia di Cristo che si fa uomo e interessa a tutti nella presentazione dello Stabat Mater ci si esprimeva tutta la storia e viene condensata in quei lavori Bolfango non rinuncia alla bella pittura alla prassi dell'artista artigiano che la esprime in un percorso tecnico e stile figurativo Zuppi dice sono zerate le gerarchie la piazza della vita e quindi qui c'è colui che distribuisce con il giornale gli avvenimenti di Cristo ormai siamo arrivati a un'espressione moderna e lo zio Pepino che fu quello da viarlo lungo la pittura qui viene raffigurato come il fornaio colui che l'ha infornato colui che l'ha fatto maturare la zia Giannina che è la tortillinaia o San Michele che difende la città o la zia Nina che è la lavandaia nelle canale qui in una bella stata in una composizione ha fatto Federico Felini con la Giulietta Magine che fanno il gioco della russola in onore del bambinello un gioco particolarmente faticoso e che va fatto con una certa impegno e che i due artisti che hanno onorato la nostra produzione filmica vengono a fare in onore del bambinello o Robert Simonocco che fa il professore mentre legge la magna carta dell'università o Eugenio Ricomini che fa il conoscitore con il suo caratteristico papillon ricreare nei tratti caratteri e pensieri in modo che il presepe è vivo non è una composizione lontana come San Francesco l'aveva fatto vivo con i pastori del tempo con la povera gente del tempo con l'asio nel bue e l'aveva fatto illuminare la notte per cui la fede entrava nella nostra storia ma poi arriva anche Garibaldi arriva anche Migliori il nostro fotografo o anche la passeggiata in bicicletta la domenica con un noto personaggio politico della nostra città che è stato anche un personaggio nazionale ed europeo qui ci sono i padroni del mondo c'è Reagan ma c'è anche Obama cioè il presidente degli Stati Uniti che sono arrivati anche loro Papa Giovanni regge i vescovi in una tribuna come era durante il concilio Vaticano II ed era il mondo guidato dallo spirito che era sopra il suo capo e cercava di mettere insieme e di raccogliere tante tendenze di tutti i vescovi oltre 2000 che erano venuti per dargli un consiglio per l'aggiornamento della Chiesa la Madonna di San Luca ovviamente non poteva non entrare non esserci in questo presepe la Madonna popolare la Madonna di tutti non si può concepire una cosa a Bologna senza che arrivi la Madonna di San Luca o Santa Caterina da Bologna la Santa che viene ad essere presente in questo presepe e che lei pure era pittrice che componeva e faceva opere di questo genere il soldato che qui appare nel presepe è uno che pensa che soffre e quindi è diventato uomo anche lui davanti al presepe e sta smettendo le armi della guerra per prendere invece l'impegno della pace che questa donna raffigura in un lavoro continuo le donne lavorano sempre in un'arte al servizio per tutti come è questa sarta ed è così che Wolfango si è espresso non soltanto nelle statue ma anche in disegni in questa opera Gesù oggi dell'edizione Rizzoli del 61 in cui addirittura fa l'arrivo dei magi adesso lo farebbe guidati da una stella come si vede ma i magi non arrivano più in cavallo adesso arrivano in automobile in una limousine con addirittura l'autista che guida ecco un'automobile che è abbastanza alto come sono i taxi a Londra per poterci entrare dentro in piedi o da tenere la bobbetta in testa i magi che offrono i doni al bambino un bambino che fra tanti panni Gesù se li sognava tanti panni e i re magi che gli offrono delle cose preziose che certo non conoscevano ma che vengono dall'Oriente e portano di queste cose portano quello che avevano Giuseppe piglia su e in questo caso con un scangerato Sidecar se ne scappa in Egitto con la sua sposa e il bambino ovviamente sono cose moderne erano le edizioni i panini che facevano queste cose dove Wolfango si è cimentato e ha arricchito con una verve enorme e ha continuato la sua esperienza che nell'estate nei disegni nelle composizioni nei testi si è manifestato enormemente c'è un messaggio che vorremmo raccogliere c'è un altare con gli idoli e c'è il primo idolo che è il missile che in quel momento 50 anni fa era la contesa fra i continenti opposti che c'erano nel mondo i nuovi idoli sono sull'altare attenzione a non mettere sull'altare né i missili né le automobili né i televisori sugli altari ci va Cristo e basta grazie a tutti